La prezogia è una finale a punti sulla distanza dei 5 mila metri pari a 20 piedi per la categoria allievi in termine. Il traguardo del 2020 tra tre e tre avremo un altro passaggio tra Grigoletti a Volovo per uscire la sola Campana ad annunciare a tutte le concorrenti che dal giro 50 avrà segnato i primi punti validi. Campana che è meno 19, arriva a puntuale. Il prossimo traguardo di coppa al termine, primi punti in palio, attenzione a tre e tre. Salvi Sofì! Salvi Sofì! Grazie 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 Vai Un piano sali dall'interno dall'interno Vai Zoppi vai Vai Zoppi Zoppi Continua 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 Vai Zoppi Vai Zoppi Vai Zoppi Continua 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 In un piano all'interno Giulio Ha guadagnato due punti la concorrente 199 Berretto Torra Passaggio di Mino 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 Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!